Grazie Cristina, grazie al Comune di Cesena e a tutti voi che avete partecipato a questo convegno. Lavorare a questo progetto veramente entusiasmante mi ha posto alcuni poesiti, alcune questioni relative alla narrazione, soprattutto dal punto di vista della storia dell'arte, che verte in condizioni abbastanza di difficoltà della materia, che ha proprio a causa dei tempi. Quindi queste questioni di tipo metodologico mi hanno indotto a filologicamente riprendere le fila e andare a vedere come nel 2016 Andrea Miliani, nella sua splendida riflessione dall'ambiente al museo, si interrogava potrà la storia dell'arte che ha la sua estensione operativa, il suo braccio secolare nell'opera di tutela e conservazione dichiararsi strumento opportuno e addirittura insostituibile? Ogni giorno nuovi materiali, nuove attenzioni entrano nella nostra specola e chiedono sopravvivenza, restauro e infine studio. Non si può mai dimenticare infatti che il fine ultimo di questa richiesta e di questo lavoro, quello della storia dell'arte, è la conoscenza dell'oggetto stesso e della disciplina, le opere d'arte in tutti i loro aspetti, forme e tipologie, che creano, semplicitandolo, l'ordito antropologico di quella cosa grandiosa, presente in ogni aspetto e in ogni luogo della nostra storia e del nostro spazio organizzato, che solo per un difetto lessicale continuiamo a chiamare solo e soltanto patrimonio artistico e culturale. Non è un caso che nello stesso anno, nell'ambito della trentuzesma Assemblea Generale di ICOM, tenutasi a Milano nel 2016, sia stata adottata la risoluzione che individuava la responsabilità dei musei verso il paesaggio, quali fattori intersecati, osmotici, nell'essere elementi essenziali dell'ambiente fisico, naturale, sociale e simbolo dell'umanità, nella rete ricca e complessa di relazioni tra componenti antropiche, sociali e naturali, che definiscono il contesto del patrimonio culturale e, in questa occasione, il caso Museo e gli studi degli Artifici, che hanno l'occasione di contribuire non solo alla conoscenza del valore dei paesaggi culturali, ma anche delle strutture simboliche che li determinano, affinché la nozione di paesaggio culturale diventi uno strumento per valutare cosa merita di essere salvaguardato, valorizzato e trasmesso alle future generazioni e quanto imbada invece messo in discussione, criticato e modificato. In ogni tutela del nostro territorio, veniamo a Romagnolo, sono davvero tanti e la personificazione dinamica del loro spirito si è estrinsecata, sì nel talento inventivo ed artistico delle loro opere, ma si è manifestata anche nella scelta dei luoghi dell'esistenza abitativa e operativa, in cui l'immaginazione e la fantasia hanno potuto librarsi con passione e magia. Le case e gli studi di ogni individuo sono un luogo nel luogo, una realtà fisica e psicologica al contempo, un'anima da scoprire. È ancora più magica e intrigante se l'anima del luogo è appartenuta a un artefici illustre, il cui corpo ha contenuto forme interiori e generatrici, espresso valori che si sono prolungati con amore nei confini dell'opera e negli ambienti, in una correlazione osmotica tra l'interno e l'esterno, tra il dentro e il fuori, che fa dello spazio dell'industria, la condizione dell'esprit e l'estensione culturale prolungata anche nello spazio paesistico e urbano, attraverso i luoghi topici del suo vissuto. E questo lo abbiamo visto con storie milanesi, appunto, nella realtà urbana milanesi. Le case e gli studi possono dissigillare i loro segreti e le loro numerose storie biografiche, narrate attraverso i luoghi esistenziali crescenti, gli arredi, gli oggetti, i libri, le opere, le biblioteche, gli archivi, raccolti in quell'aurea di autenticità, espressa dalla vita di ogni singolo illustre, valori patrimoniali della loro memoria intracciata con l'audito del tempo e la trama delle rinanze storie, in un aggiornato tessuto di insieme, che altro non è che il patrimonio culturale del territorio, riletto con uno sguardo diverso, integrato dalle relazioni e attualizzato in una geografia spaziosa, fisica e culturale al contempo, che percorre le prospettive urbane, le terre basse, le terre alte e la costa. Ogni casa, abbiamo visto, e studio, può diventare un comando biografico, che sfida ogni categoria per interrogarsi sulle relazioni tra realtà e una nazione, tra oggetto d'uso e oggetto artistico, tra in respirazione dall'attualità della formula dell'Atlanta e dell'Emo di Sine di A.V. dove sono accostati documenti di ogni cultura, che seguono il filo delle associazioni storico-artistiche e delle formule di Patros, dando origine a musei sentimentali, fondati su mitologie individuali interdipendenti con il territorio e tra di loro. Nel suo ingimirante testo, storia, storie dell'arte, delle arti e valorizzazione, e ancor di più in nuove sfide per la storia dell'arte e per la valorizzazione del patrimonio culturale, lo storico dell'arte Pietro Petraroia, propone acute osservazioni sulla situazione italiana relativa alla formazione e al ruolo della materia, proposta oggi dagli storici dell'arte tra grandi difficoltà, e traccia un viatico di condizioni essenziali per la costruzione di storie e delle arti capaci di risvegliare e potenziare un impegno collettivo, nutrito da concrete speranze per il bene comune, e di prospetta l'assunzione di approcci anche radicalmente diversi, come irriducibili modi per legare la loro memoria, esperienze, linguaggi, saperi e processi simbolici, e decreta l'impossibilità dell'esistenza di una sola storia dell'arte, perché ne servono molte che coltivino la ricerca del valore e l'attesa della sua scoperta nel processo critico aperto. Quindi, promuovere pienamente la valorizzazione integrata del patrimonio culturale attraverso approcci differenziati che non rinunciano alla storia, ma la conoscano, la approfondiscano, la leghiano, l'anatomino, con approccio polisemico e pluridimensionale, può creare le condizioni presenti e future per il rinnovamento della materia storico-artistica, innestata sull'evoluzione di valorizzazione quale presupposto alla formazione di una coscienza civica della responsabilità verso il patrimonio culturale e anello di raccordo per un turismo culturale di qualità. Ora vediamo come le case e i studi delle persone illustri si prestino molto bene a questi sviluppi narrativi, la cui messa in scena ci può essere suggerita dagli altri stessi, per esempio Italo Palmino ha riflesso di un processo mentali interiori nello spazio visibile esterno della scrittura e Francis Bacon ha inserito addirittura le polveri del suo studio nei quadri creando una colluzione tra l'opera e lo spazio fisico fino a rendere l'atelier un'opera d'arte ora musealizzata, un'installazione perpetua anche trovata ai colfini attraverso le sue opere. Solo per fare alcuni esempi tra i 91 rilevati di Emilia Romagna lo sguardo mobile e percettivo di Giorgio Morandi spaziava dal suo studio urbano di Giaffondanza a Bologna a quello di Grizzana su Montpellino due luoghi in cui egli ritrovava gli stessi oggetti della quotidianità che interpretavano i dipinti sempre rinnovati a seconda delle sfumature diverse della luce dei suoi stati d'animo e delle informazioni culturali captate dalle intene ricettive della sua diversa sensibilità. Anche il suo allievo di Logoschi e il sudale di quest'ultimo Wolfango hanno vissuto una vita stanziale ma sostenuta da una potente immaginazione espressa nelle loro case studio in cui la luce è una medesima intrisa nelle loro opere così come quella che brilla nella gamma romantica dei dipinti di Carlo Mattioli Claudio Cesari Claudio Spartini e Gastone Miggi che nonostante linguaggi espressivi differenti deriva i colori dalla penino parvense e nell'ambisce le forme interiorizzate nello spirito e negli occhi mentre la rappresentazione del teatro nell'esistenza umana ha comuna la ricerca figurativa dei romagnoli Largo Fioravanti Alberto Suti Giulio Ruffini e Roberto Casadini spesso accentuati all'impatto se espressivo dai toni freddi plombe gli occhi nere e fruiti dal mare d'inverno in queste macchine per abitare come le distruttivelle corpusie la pregnanza degli arridamenti e le scelte decorative diventano una possibile nuova partitura di narrazione orizzontale comune in tutte le case studi degli illustri dell'Emilia Romagna in cui le arti decorative e l'artigianato ritrovano la dignità di racconto che è sempre appartenuta loro sino a un molto tempo fa una lettura trasversale integranda tra le case apparentemente disomogene tra loro può invece essere il fiorus di uno sguardo narrativo della storia del gusto nell'arredamento del design nel corso del tempo in quanto gli oggetti decorativi si pongono come ulteriori elementi di relazione tra i diversi tipi di spazi analizzati da quello ulteriore verso l'esterno e viceversa facendo vibrare nell'atmosfera gli stati d'animo e le spride proprietà dai salotti ai letti barocchi della famiglia Meliluppi di Sorani in cui spiccano opulenti preziosi intatti dorati della nisteria veneziana d'autore incastonati tra gli affresti di Ferdinando e Francesco Galli da Bibiena alla fondazione Magnani Rocca di Magnano di Traversetolo in cui la collezione di Luigi Magnani si distingue per l'esposizione di straordinarie opere d'arte di Gentile da Faldiano Filippo Limpi Carpaccio Lule Lucreziano Lume Sbandi Goya e tra i contemporanei Monnetta E Noir Cezanne Sino De Chirico De Pisis Giorgio Morano Burde oltre a sculture di Canova e di Bartolini godibili nella villa pensata dall'affinato collezionista e alternati alla Coppa e Malachite del Tomir dono dello zaro Alessandro I a Napoleone sposata ai mobili di stile primo impero dei fratelli Giacoppo e Anfone e Malachite preziosamente cellesellate nelle finiture come cannellate scultore e con questo elettrico raccontato del patrimonio artistico intersecato nel territorio regionale potremmo continuare a lungo sviluppando per ogni aspetto e ogni oggetto una storia o più storie come già ci ha suggerito Monica Vietti ormai il diffusissimo storytelling di origine di uno sassone contribuisce all'interpretazione delle cose e dei beni attraverso la riocazione e la costruzione di memorie e di storie che per le case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna possono essere efficacemente tratte da vendere a un personale culturale degli stessi per creare originali percorsi di visita di collezioni o per leggere interpretare e fruire le case e i territori in un rinnovato rapporto con i paesaggi culturali e le comunità locali e che farebbe rieditare ulteriori significati per gli oggetti anche grazie all'elaborazione attiva dei fruitori raccontare i patrimoni degli illustri nella loro complessità e in osmosi con le tracce del loro vissuto nei paesaggi può essere una nuova sfida corroborante per la storia dell'arte sviluppata attraverso uno sguardo più enciclopedico finalmente atlantico sulle arti e che produca nuovi significati e significanti caliamo allora cerchiamo per capire però quali i registri di valore innesca questo tipo di valorizzazione integrata quali parametri può darsi il narratore dei patrimoni culturali e degli illustri allora i valori che le strutture culturali possono rappresentare per l'economia della cultura sono almeno 5 le strutture hanno presentano un valore potermente identitario un valore economico un grande valore creativo un estremo valore estetico e potente valore emozionale ma volendo in questa occasione proporre anche altri parametri narrativi per una rinnovata storia dell'arte di qualità comunicativa esempi da farci di derivere di banalizzazione e ben donato a sconto dal faro della grande letteratura che consente di penetrare e forse di significare il provviglio della realtà Ezio Raimondi nel suo libro non c'entro e oltre come d'altronde il Danuraldino nelle sue lezioni americane sempre poste per il prossimo millennio sosteneva che i criteri della letteratura sono anche applicabili alle storie delle arti e quindi perché non attingere proprio con 5-7 principi indicati da Calmino e che si sono dimostrati tra i pilastri della più esclusiva comunicazione culturale dei primi vent'anni del nuovo millennio la leggerezza del linguaggio sostanziata da una profonda conoscenza enciclopedica quella leggerezza pensosa che può far apparire la fribolezza come pesante o vacca la rapidità l'incantesimo che agisce sullo scorrere del tempo contraendolo dilatandolo mantenendo tesa le tensioni di racconti brevi che per essere portatori di significati necessitano della mobilità e della sveltezza dopo le fatiche interminabili della ricerca che le sostanze possono evitare l'esattezza ossia lo sforzo delle parole per prendere conto con la maggior precisione possibile dell'aspetto sensibile delle cose la visibilità l'attivazione di quel cinema mentale che è sempre in funzione in tutti noi dando vita a una donazione fisica che tocca l'immaginazione e le emozioni del pubblico la molteplicità come metodo di conoscenza e di valorizzazione come rete di connessione tra fatti tra le persone e le cose che così ben si attaglia allo studio delle case e studi delle persone illustre perché appunto citato precisamente Cardino ogni vita è un'inciclopedia una biblioteca un inventario di oggetti un cambiamento di stili dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili le storie che si conservano nella memoria collettiva costituiscono anche un universo di casi singolari di destini possibili con tutte le loro specificazioni tra le righe dell'ultima lezione scritta Calvino accenava nelle intenzioni all'ultima ancora da scrivere la consistenza quale oggetto limitato nella sua unicità questo principio ci riporta la sua ordinaria lezio tenuta a Bologna nel 2019 dalla sociologa Montalì e Nick che nell'indagare il valore del patrimonio attraverso nove registri di valore indicava quello dell'autenticità come il valore cardine di tutto ciò che si considera patrimonio culturale tipo dal monumento al cucchiaino per citare un altro grande storico dell'arte André Sciastelli perché l'autenticità è portatrice di emozioni procurate dall'essere in presenza di cose sostituibili e definibili oggetti persone se intese nella loro triplice valenza di reliquie fetici e di opere d'arte in conclusione si chiede oggi agli storici dell'arte di essere dei barri dei cantastorie che trasmettano emozionando il pubblico con sentimentalità la memoria storica delle persone illustri dalle loro case e studi e del loro vissuto sul territorio che diventa il rettarlo più o meno complesso del loro riflesso dei paesaggi culturali dell'Emilia Romagna grazie grazie